E' 85 Il totale è 12 euro e 88 centesimi Ah no, a me risulta 12 euro e 85 Meglio rifare il conto, è più prudente Ma sono 3 centesimi La signorina si è sbagliata, va bene? Capita a tutti di sbagliarsi, mi pare Oh, certa gente da non credere Fine 2006? Sei sempre così ticchio? No, per niente Ti ricordo che mi hai mollata la sera del mio compleanno Per non comprarmi il regalo Una coincidenza, quanto ho sul mio conto? 248.500 euro Devo fare economia Lei risparmia già molto Si può fare di più Le andrebbe di andare a bere qualcosa? Sì Mi hai invitata a cena? No Meglio se ti porti il banco, Matt Avete cozze? Un piatto di cozze? Addirittura un piatto Forse è troppo un piatto Potremmo averne una ciascuno? Risparmi quel bussante Io sono tua figlia Perché me l'hai nascosto? Che volevi che mi dicessi? Che suo padre è il più grande spiloccio del mondo? Io non posso ospitarti Cento euro a settimana Sei gentile, Manno Cento venti? Cento quaranta Non è che tu sarai un po' Un po' cosa? Ambientalista Sì, un po', sì Perché piomba così? Che vuole? Magari semplicemente cominciare a conoscerla meglio Lei è molto ingenuo per un bancario Arriva un momento nella vita in cui non c'è altra soluzione che pagare Vampiro Pagare No 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 Grazie a tutti